Seguendo il metodo del Dr. Buck, anche i fiori di Buck Naturalma sono 38 più un rimedio di emergenza chiamato Rescue o Relief Remedy e sono suddivisi in sette gruppi principali a seconda dell'emozione negativa che tendono a riequilibrare. I fiori sono tutti numerati dall'1 al 38 e sono raggruppati così. Il gruppo 1 è il gruppo dei fiori per la paura e qui troviamo Aspen, Cherry Plume, Mimulus, Red Chestnut e Rock Rose. Il gruppo 2 è il gruppo dei fiori per l'incertezza o il dubbio e troviamo Gerato, Gensian, Gorse, Hornbeam, Scleranthus e Wild Oat. Il gruppo numero 3 è il gruppo dei fiori per il disinteresse per il presente e cioè abbiamo Chestnut Bud, Clematis, Honeysuckle, Mustard, Olive, White Chestnut e Wild Rose. Il gruppo 4 è il gruppo dei fiori per chi soffre di solitudine e qui abbiamo Heather, Impatience e Water Violet. Poi il gruppo 5 è il gruppo dei fiori per l'ipersensibilità alle influenze esterne oppure alle idee altrui e abbiamo Agrimony, Centauri, Holly e Walnut. Il gruppo 6 è il gruppo dei fiori per la rassegnazione oppure lo scoraggiamento e qui vediamo il Crab Apple, Elm, Larch, Oak, Pine, A Star of Bethlehem, Sweet Chestnut e Willow. Il gruppo numero 7 è il gruppo dei fiori per la preoccupazione eccessiva per il benessere degli altri e qui troviamo invece Beach, Chicory, Rockwater, Burvane e Vine.